Grazie Guido, buonasera a tutti. Fatemi iniziare facendo i complimenti di cuore ad altro consumo, perché vedere questa sala così piena, con anche tante persone in piedi, è una bella sensazione, perché purtroppo quando si parla di tecnologia, nella narrativa spesso hollywoodiana, ma anche Guido citava un noto film con Alberto Sordi di tanti anni fa, tende a prevalere spesso la paura, che è normale quando ci si trova di fronte a fenomeni sconosciuti ed è connaturata alla natura dell'essere umano. Nell'anno 1000 c'era la grande paura che finisse il mondo, fino avvicinandoci di più ai tempi nostri, 2030, Odissea nello spazio. Siamo abituati ad affrontare, a vivere il nuovo e i nuovi traguardi, i nuovi passaggi con grande paura. L'importanza di questa giornata e quello che penso ne debba emergere anche nel nostro rapporto con la rete, anche nel nostro rapporto con internet, è proprio il modello di venire ad ascoltare persone con estrazione diversa, con lavori differenti che danno il loro punto di vista. Lo stesso si trova su internet, andando a cercare, confrontando le notizie, potete trovare e farvi allo stesso modo, ci possiamo fare ciascuno di noi la propria idea sui diversi temi, anche su un tema così all'apparenza negativo, perché purtroppo è, Augusto lo chiamava una moda o una semplificazione giornalistica, un modo di far passare un concetto in maniera più diretta, come Big Data. Big Data sembra voler dire che è patrimonio acquisito da grandi diavoli cattivi che grazie a quelli fanno business disinteressandosi dei cittadini. Ecco, invece è emerso, mi pare, in questo dibattito già abbastanza chiaramente come ciò che conta davvero, al di là della quantità dei dati, è l'analisi che viene fatta, il modo intelligente, quindi noi preferiamo parlare di smart data in questo senso, il modo intelligente, il modo mirato attraverso le giuste tecnologie e andando a fare le giuste ricerche, l'esempio di Guido sulla torta alle mele contro cheesecake è perfetto, bisogna fare la giusta ricerca con i giusti parametri e in quel modo si riesce a trarne valore. Allora sì, ci troviamo di fronte a un valore enorme dei dati. Senza l'utilizzo della tecnologia per estrarne conoscenza, i dati grezzi, anche quantità immense, sono come, rimanendo sul tema tecnologico, abbiamo qui grandi esposizioni di quello che, in cui ci troviamo sempre di più, internet delle cose, i piani inferiori, abbiamo visto questo bel evento organizzato oggi, è come la sabbia per i chip di silicio, per carità, è utilissima, ne puoi avere tonnellate, ma non fare mai un chip se non riesci a capire come fare il chip di silicio, partendo dalla sabbia. Allora, questo è il punto, intanto come usare la tecnologia, e lo possono fare tutti, qualsiasi persona, qualsiasi start-up, per trarre valore, trarre conoscenza dai dati. Guido faceva l'esempio dell'influenza, la previsione, per rimanere su quel tema, dell'influenza attraverso Google Trends, che è lo strumento che richiamava, è essenziale per le pubbliche amministrazioni per prepararsi con la quantità giusta di vaccini ad affrontare il momento in cui arriva l'influenza, il momento in cui arriva il picco, ed essere pronta. Ma questo può valere per qualsiasi tipo di rapporto della pubblica amministrazione con i cittadini. L'utilizzo sempre più forte dei dati che siano, lo ricordiamo, importante questo, che siano aperti il più possibile, da parte delle pubbliche amministrazioni sta cambiando la nostra vita. L'Italia, anche grazie al team della Presidenza del Consiglio per la trasformazione digitale, sta facendo, ha fatto negli ultimissimi anni, grandi passi avanti. C'è ancora molto da fare, ma davvero questo consente un cambiamento nel rapporto col cittadino enorme e lo consente poi alle imprese. Richiamiamo Google Trends, oppure, rimanendo a un nostro strumento, Global Market Finder, permette a chiunque voglia internazionalizzare il proprio business di andare a vedere sulla base delle ricerche e dei modi in cui vengono fatti attraverso Google, di indirizzare al meglio la propria strategia di internazionalizzazione e capire dove andare a investire, dove andare a esportare. È uno strumento alla portata di tutti. I dati, questo è un altro punto fondamentale, sono una risorsa che per sua natura è rinnovabile e non rivale nel consumo. Quindi, anche lì, attenzione a parlare di petrolio, perché il petrolio ci fa pensare nella nostra mentalità, ha una risorsa scarsa e così via. Mi piace invece quello che diceva Luisa della benzina. È davvero un propulsore enorme per il settore pubblico, così come per il settore privato, ma per tantissimi soggetti a cui non si pensa nemmeno, le università, i centri di ricerca, gli ospedali, che attraverso l'utilizzo di questi dati possono offrire soluzioni sempre più adatte e mirate ai propri pazienti. Fino alla Minority Report, citava prima Guido, alla prevenzione addirittura dei reati, che ormai è in realtà, insomma, in alcuni stati. Ecco, ci sono molti, molti utilizzi dei dati e i dati, smart data, o se vogliamo chiamarli big data, come volete, non sono, attenzione, sempre dati personali. Bisogna distinguere, perché ci sono i dati, le raccolte di dati, che poi diventano smart una volta trattati, che sono, se vogliamo, big, se sono tanti, ma possono essere o meno dati personali. Quindi possono essere invece semplicemente dati presi da ricerche in rete e così via. Nella misura in cui sono dati personali, però, è fondamentale, bisogna prestare attenzione. Ed è per questo che Altro Consumo, insomma, da tantissimi anni ormai, pone il focus su questo. Noi ci impegniamo con tante iniziative, potete trovare qui e al piano terra degli stand e vi invito fortemente a fare un controllo della sicurezza del vostro account Google qui di fronte a noi, perché è fondamentale, è importante informarsi. Lì, nel caso nostro, per fortuna, non parliamo di pagine, di condizioni di contratto, parliamo di uno strumento account personale che in pochissimi minuti potete utilizzare per capire esattamente quali consensi avete o non avete dato a Google, come vengono utilizzati i vostri dati e chiederne eventualmente la cancellazione, portarli via, come diceva Luisa, con una modalità che noi abbiamo già da anni, adesso è recepita nel regolamento europeo. È fondamentale questo, l'attenzione nella misura in cui ci siano di mezzo insomma dati personali che siano rispetto a Google ma che siano in generale nel mondo di Internet. Abbiamo anche tante iniziative in giro per l'Italia, Internet al sicuro che è stata in giro nel nostro Paese negli ultimi mesi, digitali responsabili, una vita da social insieme alla polizia postale. insomma cerchiamo molto spesso in partnership con l'altro consumo che è particolarmente sensibile a questi temi di andare a incontrare le persone in occasioni come queste per lavorare insieme, capire insieme che se si sta attenti e se si gestiscono i propri dati con gli strumenti che vengono forniti, quindi è fondamentale il diritto non basta siamo noi stessi noi stessi non Google noi stessi tutti quanti noi i più importanti player di questo scenario per quanto ci riguarda perché la tecnologia ci può fornire grandissime opportunità come quelle che ho brevemente accennato ne potrei citare tante altre ma ma ne trovate su Google esatto e poi è passato un bellissimo cartello che mi ha invitato e ne sta arrivando un altro ancora più minatorio quindi non andrò oltre però ripeto se ciascuno di noi abbiamo sentito il ruolo delle autorità abbiamo sentito l'impegno dell'associazione di consumatori noi per quanto possiamo attraverso tutte queste iniziative cerchiamo di sensibilizzare a usare gli strumenti che mettiamo a disposizione e poi naturalmente il ruolo del governo il ruolo della politica tutti quanti insieme ma il ruolo più importante alla fine è delle persone le persone che insieme a fruire a utilizzare servizi che non erano neanche immaginabili prima e giù al piano terra ne abbiamo ancora insomma ulteriori scenari da qui ai prossimi anni hanno allo stesso tempo insomma come dire un compito anche loro di attivarsi di verificare che dove diciamo almeno con gli operatori che mettono a disposizione questo tipo di strumenti sia tutto come avvenga tutto come lo vogliono dopodiché ripeto i big data sono un altro mondo molto più ampio di così che permettono enormi vantaggi ma una parte di questi certamente sono possono essere dati personali quindi è un compito di tutti è un impegno di tutti quindi grazie ancora per questa occasione grazie grazie Andrea